Oggi è 23 agosto 2017 e adesso chiamerò l'amico Salvatore Marino, maschio al 100%. Buona visione a voi tutti. Salvatore? Si. Oh salvatore. Buona visione. Bene. Bene. Si, ti andiamo avanti, ti andiamo avanti, carissimo. Ah, ti resta bene? Si, ti ho visto, bene. Ok, ma solamente sarà questa qua. Senta, avevo fatto i complimenti di Salvatore perché ti sembra un anno, insomma, da quando c'è te la più. Certo. Come, no? E, niente, ti faccio complimenti perché... Sposo un paio. Dai dai, Salvatore. Mi ringrazio. E... Come? Ti ringrazio molto, eh. Sono di Android, ti ricordi? E lei ha come no? No, ti ringrazio, ti sto dicendo. Ah, ok. Niente, avevo dito appunto che devo dire così, Salvatore perché sei una bella persona. Ti ringrazio. Senti, su che altri sei che stai? Eh? Su che altri sei che stai? Sì, bravo. Eh, non lo so, ma lei... Vabbè, se lo mette le... Oh, grazie per il titolo, molto bello, grazie, ricambio l'antimo, ovviamente. E di che? Non ti preoccupare, insomma. Dai, comunque, per me c'è ragione, insomma, ecco, servito, capito? Certo, grazie. Te lo vuoi, insomma. Te lo stai, ti spiegherò. No, 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 eh? No, no, che c'è? Ma che dici? Assolutamente. Nostro punto di dato che... Ieri con il generale mi sono stancato qua. Eh, ti sento un po'... Ti sento un po' stancato, infatti. Che è successo? Eh, sì, ma è stata dura, in pochi certi, perché c'è stato un mezzo, è stata dura, eh? Ma è venuto quella del Abruzzo o quella Roma? È venuto... Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Eh, ecco. C'è una bella proposta politica, quindi. Eh, guarda, è una brava, è un grande, insomma, il generale di Pappalardo, penso che sia un personaggio incredibile, unico. Sì. Eh, eh, eh. Niente, sapete, io, niente, mi spiego a mettere la tua tv, magari se... In qualche altra parte. Ho visto che hai conosciuto pure tu, Rai, da accompagnatore, Rai in giro, ho visto... Ma non c'è tu. Eh, è una mia famiglia, è una mia famiglia, non c'è tu. Roberto. Roberto, sapete, Roberto, il ragazzo martigiano. Ma, ma no, vicino alle mani, sì, non spero, quando c'è finita una attività. Esatto, è una buona persona, eh, guarda. Salute, non lo siamo così. Ah, sì, ti saluto pure di Serafino Massoni, eh. Oh, anche, però, Serafino, salute, Roberto. Anche lui un bel figlio, come no. Salute, professore, sì. Sì. Sì, sì, voi non succederà la mia famiglia. Eh, eh, sì, sì. Guarda, scusate, come chiamo a Roma, se va tu. Io la posso chiedere, la posso chiedere. Un video che parli di te in modo ancora più approfondito, se te va. Bravo, certo, va bene, grazie. Ok, ce l'ho messo, ecco. Grazie mille. Niente, stai in buona, Salvema, ok? Ok, io ci sentiamo, ci aggiorniamo. Ok, ciao, bravo, ciao. Ciao, ciao… Ciao, ciao. Facciamo a Roma, c'è Beccano Ehh, c'è Beccano Ehh, c'è Beccano Ok. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 razza. Ciao, 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 ciao.